La porta, con una frase latina, che è una frase famosa, anonima, porta e tineris, longissima, dicitur esse, che interpreta il percorso di un uomo, di un'umanità. Il momento di varcare la soglia o di entrare in una soglia è la parte più lunga, più difficile, più dispendiosa del cammino di qualsiasi umanità. Una porta aperta al dialogo tra religioni per abbattere il muro del pregiudizio è il tema scelto per la seconda edizione della Biennale Internazionale d'Arte Sacra Contemporanea, allestita anche quest'anno nel polo museale di Palazzo Riso a Palermo. La seconda manifestazione della Bias che ospitiamo è particolarmente grati a questa manifestazione perché coincide perfettamente con quelli che sono gli obiettivi del riso, cioè di diffondere l'arte contemporanea, sostenerla e divulgarla a livello regionale, nazionale e internazionale. Tema caldo di questa edizione è quello della guerra in Siria. Numerosi padiglioni religiosi sparsi tra la Sicilia, l'Egitto e Israele, con 115 artisti partecipanti. Ma sarà prevista anche una raccolta fondi per finanziare un presidio medico per la comunità Bedouin nel deserto del Sinei.